ciao a tutti bentornati qui sulla north frisice marsh ok allora vedete un po guardavo un po il nostro primo viaggio d'acqua per le pecorelle ho messo direttamente il camion così faccio fare due viaggi almeno per un po sono tranquillo 30 30 60 addirittura forse forse gli facciamo anche il pieno una cosa del genere perché comunque l'erba già il primo viaggio gli è arrivato secondo me è già in viaggio per il secondo secondo terzo gli portiamo l'acqua poi abbiamo bisogno di portargli solo la paglia e siamo ok stavo osservando perché voglio vedere se riusciamo a scaricare anche nello stesso punto dove ci ho messo io il cibo valuteremo la situazione poi vediamo com'è se devo spostarlo magari farne un altro non ho capito perché rallenta così tantissimo il nostro camion con il nostro trattore con le pecore avanti e indietro già al secondo viaggio benissimo anzi mi tengo pronto il mouse così quando arriva ci clicchiamo subito sopra ne carico altri 10 il vostro punto sono a 30 e direi che va bene altra roba cioè per adesso altri non gliene po eccolo che è il secondo viaggio che è frenata che è frenata l'ultimo pelo io già mi aspettavo che lo prendessi in pieno proviamo anche il camion perché così almeno so che posso scaricare posso utilizzare per scaricare tutte e due o tutte e due le combinazioni se hai già riconosciuto il trigger posso anche anticiparlo un pelo il punto cioè quello per l'acqua vediamo vediamo dove inizia a scaricare oh più avanti beh a sto punto posso anticiparli un po' tutti e due sia l'uno che l'altro però cosa mi cambia? cambia mica niente l'unica cosa è così che almeno ho un punto per l'acqua metterei qui così se dopo voglio fare voglio mettere tutti i scarichi d'acqua tutti in un punto cioè tutti in una cartella almeno ho il secondo punto eh scarica se è sopra penso proprio di sì allora qui molte volte me lo dimentico acqua ecco acqua no ho scritto acqua 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 ogni tanto allora mettiamo qua acqua pecore visto che ce l'ho l'utilizziamo oh stalla però l'ho lasciato minuscolo no bene vabbè lo faccio dopo no faccio adesso tanto da qua ci sono ok allora acqua depuratore che poi non c'è neanche bisogno che la prendiamo dal depuratore possiamo prendere l'acqua carica che c'è quello qua vicino dov'è acqua carica in cartiera così fa dei corti chi è che ha finito oh abbiamo finito anche di seminare i nostri girasoli solo che aspetta che chiediamo due giri perché mi sono accorto che sto percorso non va bene perché negli angoli mi lascia troppo mi lascia del non lavorato e non mi piace no qui no anche se quella parte la lascia ma non mi interessa proprio dove ci sono gli angoli un po' più chiusi eh dai che l'ho visto dov'era allora non è qui allora è negli altri angoli perché l'avevo visto che l'avevo visto oh comunque con i semi 338 ci siamo arrivati a malapena che ci siamo arrivati per un pelo ho visto male sono rimbambito strana sta cosa ma ecco dov'è chiudi eh ma infatti ricordavo che c'era ok adesso si chiudiamo qua allora per adesso altra roba da seminare non ne ho giusto dov'è qua allora l'avena non mi serve il mais più avanti il girasolo li ho fatti i semi di soia più avanti patate no barbabietole no canna da zucchero no cotone non ci pensiamo neanche su questa mappa il cotone non si fa segale farro trittica a meno che non voglio fare la stoffa mi dispiace ma vediamo il lupolo più avanti fagiola fagiolini quella roba lì tutto più avanti ceci eh no allora parcheggiamolo da qualche parte qua vicino tanto è inutile portarlo là sotto se mi dovesse servire anche perché campi ma i campi sono tutti là sotto vabbè intanto la lascio qua dopo ecco qua parcheggio qua anche tu dovresti andare un pelo più indietro ok allora poco fa ce n'erano da 15 mesi se non sbaglio no 21 2 27 troppi troppi 9 9 mesi eccolo qua seleziona 10 va bene sposta nel rimorchio ok chissà quante ne sono rimasti ok con gli 11 mesi 8 mesi sì possiamo fare gli 11 e gli 8 ma questi già sono che ne ho portati già con questi sono 30 che significa che per adesso basta che per adesso basta così allora gli abbiamo portato l'acqua gli abbiamo portato l'erba gli manca solo la paglia dove che dov'è il coso qua sopra aspetta c'è acqua aspetta sì allora questo me lo metto qua vicino anche alla alla seminatrice così che viaggiano insieme è vero che al prossimo giro ho bisogno anche dei dei semi no allora parcheggiamo questo un po' più qua perché altrimenti la prima volta che passo ti blocco qualcuno ok tu sei a posto tu sei a posto tu hai parcheggiato benissimo si è acceso questo non l'ho capito questo si è riempito benissimo allora tu cosa fai tu vai al parcheggio così mi interessa sapere anche dove mettere quello nuovo per questo non per altro si funziona ok allora questo sta facendo i suoi viaggi ne ha altri due o tre questa è parcheggiata questo è fra un po' in arrivo tu sei ok tu sei ok io quasi quasi non ho più niente da fare spostato quello adesso gli portiamo un po' di paglia quasi quasi ci vado con questo faccio un bel viaggio di paglia ah potrei fare un viaggio con i pallet vuoti entro diciamo che entro oggi e poi salto la notte ah no mi sono dimenticato devo caricare ancora la legna allora diciamo che il mese di marzo sarà un po' più lungo di quello che mi aspettavo allora poglia poglia allora facciamo due giri penso che due giri dovrebbero due giri da 60 secondo me basta base si base carica allevamento pecore le pecore oh allora dove ce li ho qua eee taratatant taratatant allevamento do cacchio è a allevamento 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 pecore per scaricare questo e carichiamo paglia 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 Duos viaggios Ok E tu sei a posto Andiamo a caricare un paio di legni E facciamo un bel viaggio anche con questo Direi che dopo Quasi quasi saremo anche alla fine della puntata Ragazzi vediamo un po' E che sembra che Cioè il tempo vola Non so perché Inizia una partita Penso che Devo fare quella mezz'oretta Per una puntata Invece in due secondi Vola via Allora chi è arrivato Consegna animali Sta la 2 È arrivato Aspetta Ah ma fregato Di più perché Se arrivano gli altri Che devono scaricare È un casino Aspetta che ci vado subito Allora Dobbiamo mettere un altro Però più indietro Ah ma più di là Non va Strano Vabbè uguale Allora Seleziona Scarica tutto E siamo a 30 Per adesso basta Eh ma adesso dove lo metto Parcheggio Andiamo al parcheggio Com'è che non c'è il parcheggio Mannaggia Allora Gli avevo assegnato il parcheggio Forse glielo ho tolto Perché era troppo stretto Questa A cos'è Vabbè No Allora Facciamo Facciamo Mucche Dov'è Mucche 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 Base Cibo E sta la 2 Così si mette lì Tanto l'altro Deve fare ancora Dei viaggi Un paio di viaggi Li deve fare Nel frattempo Lui arriva Lo scarichiamo Il nostro amico Con quelle arrivate Si parcheggia Bravo Questo sta andando Quando ci vuole ancora Vediamo se scarica bene Se magari un paio di legni Me li carico off screen Eh ragazzi Altrimenti Non lo facciamo mai A proposito Aspetta Allora Così È così Sto cose Al contrario Non ho capito Perché Ma il mouse Funziona Al contrario E io non lo voglio Al contrario Allora Mouse Guarda giù Dal veicolo No aspetta Devo vedere Allora E più Deve diventare meno No Ok Ok Mi fai vedere Mi fai vedere come scarichi Un viaggio di tronchi Lo voglio fare In questa puntata faremo almeno un viaggio Perché altrimenti Perché altrimenti Li ho abbandonati completamente Allora se scarica il camion con l'acqua Dovrebbe scaricare anche lui Perché il punto è uguale La lunghezza è uguale Oh con la sua calma Sangue freddo Mamma mia Perché 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 Non scariche Perché Perché Non scariche Perché Non scarichi Eh Non va bene Sta cosa qua Eppure Il trigger È diverso Per la paglia Probabilmente Il trigger è diverso Allora Facciamo Uno Due Tre Quattro Cinque Vediamo Beh ma mica Poi tanto Avrebbe dovuto Prenderlo Però Dico Avrebbe dovuto Perché Dai Go Allora Lo scarico paglia Lo devo mettere un po' più avanti Perché Uno è questo Il trigger E l'altro è questo Che significa che Non va bene Ah Adesso tocca pure sopra Vabbè Per fortuna che almeno ce l'abbiamo fatta Allora Mettiamo il punto di scarico Della paglia Più avanti Direi che qui va bene Perché il trigger Essendo un po' più avanti Lì Non 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 mi vuole far scaricare Allora Scarica Paglia Stalla Due Ok Allora Mettiamoci Scarica paglia Così Vediamo se Giro Dovrebbe funzionare E ne fai un altro E basta E questo è a posto Ma dove va? Oh Sei andato a prendere L'altro percorso di là Vabbè Non cambia niente Tanto quello non è lunghissimo Oh Aspetta che devo disattivare qui Succede un casino Uno Due Tre Quattro Cinque Allora Così Non ci dovrebbe essere più Allora Allora Quasi siamo messi qua Altri due ci vanno Però Dai Ce la faccio uscire da qua? E dovrei Allora Carico altri due qua Basta Ho sempre quella sensazione Che prima o dopo Si cappotta In una curva Questa cosa qua Oh Anche brilli adesso Dun marones Dai No Direzione sbagliata Ok Questa è quella giusta Ma quando eravamo arrivati Che io non mi ricordo neanche Quanto legno ci avevamo portato Secondo me Abbiamo fatto un 5 o 6 viaggi Solo che Mi ricordo C'era un Il numero Preciso Due sessanta Vabbè Ok Andiamo a fare un altro viaggio E poi basta E poi basta Oh Gli devo portare il diesel Al peschereggio Mannaggia Andiamo per 4 minuti E' un casotto Questo diesel Infatti metteremo Tantissimi Adesso ho iniziato Quei girasoli Metterò anche Della colza Così che almeno Per un po' Quello è fornito Fin quando abbiamo Di nuovi soldi Per mettere L'isola Di Traforo Che si chiama Dobbiamo Fare Di Quella Cosa lì Allora Vediamo se Qua carica No Dai Allora me li porto dietro Ma non me li carica Ma sarai asino Ok Ok Carica Da questo lato Qua Altri due di qua Cosa c'è lì Un tronco C'è il tronco Eh mi tocca togliere anche questi Ah già Ma questi sono Ah sono noiosi da togliere Ragazzi che assurdo Assurdo Basta Altrimenti La prima curva Che faccio lì Mi cappotto Ok Ok Vediamo dove è scarica Se mi ricordo bene Carica di qua Allora scarichiamo tutto Buttiamo tutto dentro Ok Ok No Sposto questo Come mi viene meglio E' rimasto E' rimasto uno Sono rimasti due a tre E adesso buttiamo dentro E' questo Albero volant Albero volant Poi Sembravano a distanza Sembravano di più Invece solo uno Ah Vabbè Meglio 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 Oh cosa c'è qua Ho ancora questo cacchio di cosa attivato Ok Allora siamo arrivati 327 Non è per niente male Io adesso probabilmente off screen Anzi no Off screen adesso mi finisco di caricare tutti gli alberi che ci sono lì E mi carico Tiro via anche i tronchi Così Non vi annoio con il discorso dei tronchi Perché altrimenti ragazzi Diventa Troppo lunga Va bene ragazzi Allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntatina qui Noi ci rivedremo Sempre qui sulla North Face de Mars Se non ve la volete perdere E vi volete iscrivervi al canale Iscrivetevi Ricordo che la North Face de Mars Va in onda O andiamo in onda con questa mappa qua In live al venerdì sera Su Twitch I orari e i giorni C'è un posto in descrizione C'è un posto in programma Dove Vengono specificati sia i giorni che i giorni Ok ragazzi Allora Un salutone Ciao 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 Ciao